Buongiorno, benvenuti a questa edizione di Ultima Tg. Oggi apriamo con una notizia che è legata alla regione siciliana perché la Corte dei Conti ha contestato al governatore Musumeci di avere sostituito il rendiconto del 2017, quindi ha convocato un'udienza alla quale però il governatore non partecipa. Per il presidente della Corte dei Conti, Luciana Savagnone, probabilmente non c'è un problema di buona fede da parte della regione, ma sicuramente il testo perificato non esiste più. Vediamo cosa ci dice in questo servizio Simona Zappalà. Ma è successa una cosa del genere così, commenta la presidente delle sezioni riunite della Corte dei Conti, Luciana Savagnone, a conclusione dell'udienza della Corte dei Conti, che ha contestato al governo Musumeci di aver sostituito il rendiconto generale della regione per il 2017, già parificato dai giudici a luglio con un nuovo testo trasmesso all'Arsa per l'approvazione. La regione ha rifatto il rendiconto, ha sostituito la delibera di giunta di approvazione del disegno di legge del vecchio rendiconto con una nuova delibera di giunta, l'avete sentito, di ottobre, con la quale ha predisposto un nuovo disegno di legge, un nuovo rendiconto. Loro dicono recependo tutte le nostre indicazioni di regolarità, di puntualizzazioni, di aggiustamenti che avevamo esplicitato nella parifica di luglio. Questo a noi ancora non risulta niente, perché noi questo rendiconto l'abbiamo avuto la settimana scorsa, quindi noi non siamo in grado di… In ogni caso è un nuovo rendiconto. Non so cosa uscirà dalla Camera di Consiglio, ma l'iter vuole che il rendiconto venga parificato. Nel momento in cui c'è una delibera che sostituisce la precedente, secondo me nel mondo giuridico quella delibera non esiste più. È chiaro che se io cambio un dato, poi cambiano tutti, perché ci sono le entrate, le uscite, il più, il meno, basta che cambio un dato, cambiano i risultati di amministrazione, cambiano i residui, cambiano i fondi, è tutto un altro documento. Assenti all'Assemblea il governatore Nello Musumece, l'assessore all'economia Gaetano Armao, è toccato alla ragioniere generale della Regione, Giovanni Bologna, fornire delle spiegazioni sulla scelta compiuta dalla Giunta. Il super burocrate ha sostenuto che la decisione di predisporre un unico disegno di legge avrebbe trovato conforto da altri organismi istituzionali, ma ha dato la disponibilità dell'esecutivo, qualora la Corte lo chiedesse, di scindere il disegno di legge in due testi differenti da proporre all'Aula, uno con il rendiconto 2017 e l'altro col consolidato. Non posso dubitare della buona fede, ma è chiaro che a noi spetta verificare. Nei primi sei mesi del 2018 in Sicilia è proseguita la fase di crescita moderata registrata nel 2017, quanto emerge dall'analisi congiunturale semestrale di Banca d'Italia, che è stata illustrata questa mattina nel corso di una conferenza a stampa nella sede regionale alla presenza del direttore della sede di Palermo, Pietro Raffa. I comparti trainanti sarebbero il manifatturiero ed il terziario non economico, bene anche le esportazioni ed il settore turistico, segno negativo invece per il settore edilizio, che prosegue il trend negativo già avviato negli anni scorsi. La disoccupazione in Sicilia resta nei primi sei mesi dell'anno doppia rispetto al resto del Paese, 22,3% nell'isola contro la media dell'11,1% nazionale. Rifiuti pericolosi a rischio infettivo, rifiuti sanitari e nonno, sarebbero stati scaricati in maniera indifferenziata nei porti italiani, come se fossero dei rifiuti urbani. E' l'accusa nei confronti dell'ONG, Medici Senza Frontiere, che ha fatto scattare il sequestro preventivo della nave Aquarius. 24 sono le persone indagate nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Catania e il ministro Salvini esulta, dice ho fatto bene a bloccare le navi ONG. Sentiamo il servizio. L'operazione Bordless, svolta dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia, coordinata dalla Procura di Catania che ha portato al sequestro della nave Aquarius, avrebbe accertato uno smaltimento illecito in 44 occasioni. L'accusa parla di rifiuti pericolosi a rischio infettivo, sanitari e non, 24 mila chili, scaricati in modo indifferenziato nei porti italiani come se fossero rifiuti urbani. L'imbarcazione, attualmente ancorata nelle porto di Marsiglia, è stata sequestrata, scrive il GIP, perché vi è un fondato pericolo che la libera disponibilità della motonave possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato. Poi i dati diffusi dalla Procura. Nel periodo compreso tra gennaio 2017 e maggio 2018, dalle navi Vos Prudence Aquarius non è stata mai dichiarata la presenza di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, anche in presenza di numerosi e documentati casi di malattie registrate dai vari uffici competenti intervenuti nel momento dell'arrivo dei migranti nei porti italiani, durante i quali sono stati rilevati 5.088 casi sanitari a rischio infettivo, scabbia, meningite, tubercolosi, AIDS, sifilide, su oltre 21.000 migranti sbarcati. La tariffa rifiuti speciali? Io li consideriamo rifiuti speciali, perché se tu parli di infettivo si parla di ospedaliero, si parla di un bordello che non te ne possono più venire a prendere. Secondo quanto accertato, la declassificazione dei rifiuti a rischio infettivo avveniva tramite un'artificiosa comunicazione documentale. Si deve classificare, c'è l'Europa, l'Italia, tutto un sistema di codici e se uno parla di una cosa e parla dell'altra, qua si finisce in galera, non per una sola persona, per i rifiuti si finisce in galera. Le reazioni, Medici Senza Frontiere definisce sproporzionato e strumentale il sequestro della nave, un provvedimento, dicono i vertici, teso a criminalizzare per l'ennesima volta l'azione medico-umanitaria in mare. Esulta invece il ministro dell'interno Matteo Salvini che dichiara ho fatto bene a bloccare le navi delle ONG, ho fermato non solo il traffico di migranti ma da quanto emerge anche quello di rifiuti. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata stamattina alle 6 e 6 minuti a Biancavilla in provincia di Catania. Il sisma è stato localizzato dall'Istituto Italiano di Geofisica e Vulcanologia a 21,7 chilometri di profondità, però non risultano al momento danni a persone o cose. I carabinieri di Catania hanno arrestato 17 persone facente parte delle nuove leve del clan Laudani di Giarre che gestiva voti e assegnazioni illegali di case popolari. Non solo estorsioni a tappeto ma anche gestione di voti e consegna non in regola di case popolari. Il gruppo del clan Laudani di Giarre, le cui nuove leve sono state disarticolate dall'operazione Smack Forever dei carabinieri di Catania, usava ogni mezzo illecito per fare soldi da riciclare. In carcere sono finite 17 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa finalizzata a estorsione, furto in abitazione, lesioni e riciclaggio, reati aggravati dal favorire la cosca. Dall'inchiesta dell'operazione Smack Forever, così chiamata perché alcuni affiliati si sono fatti un tatuaggio a forma di labbra, simbolo dei Laudani, è emerso che il gruppo era in possesso di armi e che controllava il territorio sottoponendo i commercianti al pagamento del pizzo, imponendo assunzioni forzate con pestaggi, incendi di veicoli e furti. Nel giugno del 2016 per le comunali a Giarre, il boss giarrese appoggiava dei candidati consiglieri per, spiega la procura di Catania, ottenere benefici futuri. Pur non essendo emersa la prova dello scambio di voti, sono stati evidenziati contatti con candidati non identificati e la volontà del gruppo di attivarsi per promettere denaro e regali per ottenere la preferenza per candidati di comodo. Il boss giarrese, nel tentativo di convincere i votanti a cambiare la loro preferenza, gli intimava di dare il voto agli amici nostri e non ai Santa Paoliani, così diceva. Inoltre, secondo l'accusa, Liotta gestiva illegittimamente l'assegnazione delle case popolari, assegnandole a persone a lui vicine o lucrando sui canoni delle locazioni. In alcuni casi, l'Istituto Autonomo Case Popolari di Acireale, avendo accertato occupazioni abusive, invitava il comune di Giarre ad attivare con urgenza la procedura di emissione ed esecuzione di ordinanza di sgombero, di cui, sottolinea la procura di Catania, al momento non si conosce l'esito. Accanto al capoclan spiccano anche figure femminili come la moglie Valeria Vaccato e Sharon Contarino, accusate di riciclaggio ed estorsione. E abbiamo un'ultima ora sull'inchiesta Black Job su un presunto giro di corruzione intorno all'attività dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Catania. La Cassazione ha infatti annullato l'ordinanza di carcerazione per l'ex deputato regionale Marco Forzese, che si trovava agli arresti domiciliari. Quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della DDA, sono state eseguite dal servizio centrale operativo e dalle squadre mobili delle questure di Palermo e Agrigento. I provvedimenti riguardano il boss Leo Sutera, 68 anni, ritenuto al vertice dell'organizzazione mafiosa della provincia Agrigentina. Giuseppe Tabone, 53 anni, Maria Salvato, 55 anni e Vito Vaccaro, di 57 anni. Queste sono le persone colpite dal provvedimento. Leo Sutera, secondo quanto emerge dall'inchiesta, avrebbe potuto contare sull'apporto di Giuseppe Tabone, Maria Salvato e Vito Vaccaro. I tre indagati sono stati particolarmente attivi nell'aiutare il capo mafia, che costruisce la questura di Agrigento, aiutandolo a deludere le indagini, salvaguardandone gli spostamenti e la comunicazione. Tabone e Salvato lo avrebbero tenuto costantemente informato sull'esistenza di telecamere e di possibili attività investigative nei suoi confronti, mentre Vaccaro avrebbe anche messo a sua disposizione i mezzi e risorse, tra cui un immobile da destinare ad incontri riservati. Denuncia dell'Associazione Ambientalista Agrigentina che documenta un grosso versamento di liquami in un bosco in pieno centro di Agrigento, nonostante i cittadini abbiano continuato a pagare le tasse sulla depurazione. Sentiamo. L'Associazione Ambientalista Mare Amico, guidata da Claudio Lombardo, torna alla carica e denuncia l'ennesimo scempio ambientale ad Agrigento. Già nelle scorse settimane gli ambientalisti avevano portato alla luce la presenza di un grosso scarico fognario in un bosco nel pieno centro di Agrigento. Secondo Mare Amico lo sversamento, causato dalla negligenza di girgenti acque, proveniva da un intero quartiere e dopo essere stato trasportato dai fiumi terminava la sua corsa nel mare di San Leone. Per di più i residenti del quartiere hanno continuato a pagare i costi della depurazione. I tecnici dell'ARPA negli scorsi giorni hanno effettuato un sopralluogo, certificando un grave pericolo per la salute pubblica e invitando alla bonifica del terreno interessato da una forte contaminazione cloacale. L'ARPA nasce qualche settimana fa, quando abbiamo documentato e segnalato la presenza di un grosso tubo che raccoglieva le acque di un intero quartiere che veniva a sversare del liquido fognante in un bosco. Poi da questo torrente si sversava in un fiume e quindi nel mare di San Leone. Abbiamo chiamato l'ARPA, abbiamo segnalato la cosa ed è arrivata la documentazione da parte dell'ARPA che si trattava di fogna allo stato puro e è stato individuato il colpevole cioè le giurgenti acque che è responsabile delle fognature ad aggrigendo e gli è stato intimato di ripristinare luoghi. Ma la cosa, questo è già grave, ma è ancora grave, altrettanto grave il fatto che per tanto tempo la gente inconsapevolmente ha inquinato e gli è stata richiesta del giurgenti acque e pure il pagamento della depurazione. Questi sono fatti gravissimi e si sommano a un altro fatto grave che è di ieri dell'interdittiva antimafia data a giurgenti acque da parte del prefetto di aggrigendo che probabilmente imporrà un commissario e quindi ora noi ci chiediamo chi andrà a eliminare questo problema e chi leverà questa fogna dal centro della città. Gli ex ricercatori catanesi della Mirmex hanno protestato stamattina davanti alla sede della presidenza della regione siciliana di Catania per chiedere una data ufficiale di incontro. È stato preannunciato il ricorso i legali. Sentiamo. Sindacati e lavoratori si erano già recati nella sede dell'assessorato regionale per le attività produttive per visionare gli atti pubblici riguardanti i rapporti tra la regione e la Mirmex e hanno preannunciato il ricorso i legali. Una denuncia reiterata, quella della CGL, è rivolta alla regione siciliana che non avrebbe vigilato a sufficienza sulla vicenda riguardante il centro di ricerca. Oggi la protesta davanti la sede di Catania della regione siciliana. L'incontro con l'assessore Razza si svolgerà venerdì. Vogliamo che la regione trovi una soluzione definitiva e ultima per i lavoratori perché ormai i lavoratori non possono più sostenere la loro esistenza senza nessuna fonte di reddito. Noi abbiamo cercato più volte di interloquire con la regione Sicilia ma al Ministero dello Sviluppo Economico, all'assessorato delle attività produttive, alla Prefettura, gli assessori, del Presidente si sono sempre negati la presenza, sono stati sempre assenti e oggi siamo qui per questo. Abbiamo ottenuto un importante risultato in quanto venerdì l'assessore Razza di pomeriggio ci convocherà e quindi noi torneremo in presidio venerdì pomeriggio e richiederemo all'assessore e a tutta la regione che venga trovata una soluzione per l'avvertenza dei lavoratori Mirmex. È la settimana europea per la riduzione dei rifiuti, anche i comuni siciliani si scambiano delle esperienze positive, le cosiddette buone pratiche su questi temi chiave come ad esempio quella sulla gestione, la prevenzione dei rifiuti pericolosi. Stasera nel comune di Santa Venerina in provincia di Catania, un comune virtuoso che smaltisce il 65% di rifiuti differenziati, si confronteranno cittadini e amministratori di comuni pedemontani e dell'Enese. In studio stamattina abbiamo ospitato l'assessore comunale all'ecologia di Santa Venerina, Giuseppe Fresta. Sentiamolo. Ogni cittadino deve avere la sensibilità di informarsi correttamente su quelle che sono le modalità di gestione di ogni rifiuto sul proprio territorio. Ogni comune ha messo a disposizione queste informazioni e quindi il cittadino deve assolutamente sentire la necessità di tenersi informato. Dall'altro lato il comune deve essere in grado di produrre informazioni che siano facili da comprendere e che siano soprattutto dettagliate. Per quanto riguarda il particolare focus della settimana europea di riduzione dei rifiuti e quindi i rifiuti pericolosi, ogni comune adegua la raccolta a quello che è la gestione che fa di tutto il sistema. Quindi le modalità di conferimento su Santa Venerina ad esempio sono diverse da quelle su Piedimonte e così via. Nella fattispecie a Santa Venerina i rifiuti pericolosi che riguardano in particolare le pile, sauste, i telefonini e più in generale i RAE, ovvero i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, possono essere conferiti con il porta a porta, il porta a porta su chiamata. Ogni cittadino chiama la sede operativa del comune, prenota il ritiro e la settimana successiva, il giovedì successivo davanti alla propria porta potrà esporre il rifiuto che verrà correttamente raccolto. Per quanto riguarda le pile invece liberamente i cittadini hanno a disposizione diversi punti di conferimento grazie anche alla collaborazione dei commercianti perché all'interno di molte attività commerciali non chiede il comune stesso, ci sono dei contenitori per il deposito delle pile sauste e da diversi anni, da quando è attivo il servizio, devo dire che sono stati recuperati parecchi chilogrammi di rifiuti con un notevole vantaggio soprattutto per l'ambiente. Rimaniamo sempre sul tema rifiuti perché stamattina c'è stata una vera e propria emergenza durata qualche ora per i comuni etnei che conferiscono nella discarica di Motta Sant'Anastasia in provincia di Catania la Sicula Trasporti che ha chiuso per alcune ore poiché sprovvissa di una autorizzazione regionale. La Dasti che è la società di raccolta di rifiuti che serve ai comuni di Catania ma anche altri dell'Interland attende adesso che da Palermo arrivi l'apposito decreto. Per adesso il servizio è sotto controllo e noi abbiamo ospitato il studio Valentina Sanfelice che è direttore dell'unità operativa della Dasti che ci ha raccontato cosa è accaduto in queste ore. L'impianto dove noi conferiamo i rifiuti indifferenziati quindi la discarica è stata chiusa per mancanza di autorizzazione da parte del Ministero. In questi minuti mentre stiamo parlando mentre siamo qui insieme siamo in attesa di nuove comunicazioni da parte del Ministero che appunto darà da parte della Regione Sicilia che dovrà inviare alla Sicula l'autorizzazione per consentire poi alle ditte non è solo un problema di Catania ma è un problema che riguarda diversi paesi limitrofi per autorizzare i nostri camion quindi a conferire i rifiuti indifferenziati. È chiaro che questo non si sposa bene col progetto che stiamo cercando di portare avanti, quello di promuovere la differenziata perché se è vero che in queste settimane il rifiuto indifferenziato va riducendosi sempre di più a favore chiaramente della raccolta differenziata è vero anche che anche solo la chiusura di poche ore di una discarica come questa lascia presagire la possibilità di un'emergenza che stiamo comunque tambonando anche con l'aiuto appunto del Comune in attesa che la Regione insomma sblocchi il decreto. Stamattina, seconda giornata di visita siciliana per il Ministro Toninelli, a breve vi faremo sentire l'aggiornamento da Palermo, prima però vi proponiamo un servizio che riguarda invece un tema completamente diverso perché a Pedara in provincia di Catania una poliziotta è stata presa a calci e pugni da un'altra donna mentre dava da mangiare a una cane randaggia che aveva da poco partorito lo rende noto Enrico Rizzi, presidente nazionale del nucleo operativo italiano, tutela animali con un posto su Facebook, però oggi noi lo abbiamo ascoltato, sentiamo. Io ho appena sentito l'agente della Polizia di Stato in servizio presso la questura di Catania che purtroppo ieri ha subito questa aggressione, tra l'altro la seconda nel giro di due anni seppur subita da persone diverse. Il Comune purtroppo di Pedara è classificato tra noi tra i peggiori comuni siciliani per quanto riguarda purtroppo il fenomeno del randaggismo, è un comune che non fa assolutamente nulla per prevenire questo triste fenomeno che per carità è diffuso in molte città del sud d'Italia, in modo particolare non della Sicilia, però dobbiamo prendere atto che le amministrazioni comunali seppur con tante difficoltà cercano di arginare questo fenomeno, non si tratta soltanto di tutelare il povero cane randaggio che vive strada per colpa dell'uomo, perché se abbiamo randaggismo ricordiamolo a chi ci ascolta, è per colpa dell'uomo che abbandona i cani sulle nostre strade siciliane, però può capire bene diventare anche un serio problema igienico-sanitario, soprattutto quando si vanno poi a creare quei branchi di cani randaggi. Mi dicevamo poco fa che stamattina è stata la seconda giornata di visite per il ministro Toninelli in Sicilia, un tour che in qualche modo ha servito a svelare lo stato di salute delle infrastrutture e delle strade siciliane e ci racconta com'è andata questa seconda giornata Roberto Chifari. Il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli prosegue la sua visita in Sicilia, dopo l'etapa scillato e aggrigento di ieri, oggi ha fatto visita alle strade disastrate delle Madonie e in provincia di Palermo. Allora di pranzo è arrivato nel capoluogo per incontrare il presidente della regione Nello Musumeci, tra le tappe previste anche un passaggio al cantiere ferroviario di Palermo. Nel suo tour in Sicilia Toninelli ha parlato della necessità di riparare al più presto le strade Colabrodo di Sicilia. Toninelli ha ribattezzato la sua visita nell'isola più che una visita istituzionale come un'ispezione necessaria per riportare in Sicilia standard adeguati alla viabilità. E ci sarà anche un commissario ad acta per la viabilità locale che dovrebbe accelerare sui cantieri. Ci sono strade provinciali bloccate e in quella situazione qua è necessario intervenire. Questo è un primo passo, aspetterò e ne parlerò, spero già di riuscire a farlo stasera, fuori sacco si dice nel Consiglio dei Ministri che ci sarà portando quello che io ho visto con i miei occhi e ascoltato con le mie orecchie, cioè l'emergenzialità totale della situazione qual è la vostra siciliana che non ha niente, e sottolino niente a che vedere con le altre regioni italiane. Voi avete necessità di avere un governo e la mia presenza qua non è tanto per farmi fare una fotografia, non è tanto per fare retorica, ma perché significa che c'è attenzione. Io sono qua a sollecitare, a controllare e a spronare i cantieri che sono sotto la mia responsabilità come ministro controllante e controllore sia tecnicamente che come indirizzo politico di ANAS e RFI. Per Musumeci l'esigenza invece è quella di ripartire con i cantieri sulla rete ferroviaria oltre che quella viabile. La rete viaria siciliana alla quale aggiungo la rete ferroviaria in Sicilia che ha bisogno di ammodernamento, che ha bisogno di chiudere cantieri aperti anche da vent'anni, penso alla tratta Messina-Catania. Significa operare con alcune deroghe che possano consentirci di evitare i tempi lunghi che la burocrazia nazionale e regionale impone. Oggi si celebra la giornata dell'ONU in ricordo delle vittime della strada. In Sicilia purtroppo il bilancio è ancora una volta negativo. I morti aumentano e gli incidenti crescono a dismisura. Sentiamo Simona Zappalà. Tanti morti, tanti incidenti stradali. In occasione della giornata ONU in ricordo delle vittime della strada anche la Sicilia ricorda coloro che sull'asfalto hanno perso la vita in un incontro nella ex chiesa di San Mattia e Crociferi a Palermo. Un bilancio negativo, le statistiche dicono che il 90% degli incidenti sono causa dell'uomo, disattenzione, uso improprio del cellulare, mancato rispetto delle norme, della segnaletica, velocità non adeguata, sono cause che vanno debellate. Un 2018 da Bolino Nero. La Polizia Municipale è impegnata nel lavoro, nell'unico lavoro che può produrre risultati ed è quello del trasferire ai giovani, a coloro che si approcciano alla guida di un'autovettura qual è il comportamento corretto quando ci si mette alla guida dell'autovettura, qual è il comportamento corretto anche rispetto alle norme non solo del codice della strada ma alle norme che garantiscono la sicurezza per sé e per tutti coloro che circolano nelle strade, siano essi pedoni, siano essi automobilisti. Bisogna, non è un cartello, un limite di velocità che salva la vita e la consapevolezza da parte di coloro che sono posti alla guida che quel cartello serve più che altro non a fare le sanzioni che sono una magra soddisfazione per le casse comunali e sicuramente non hanno significato ma perché quel limite e la consapevolezza che quel limite serve a salvare la vita di coloro che circolano per le strade. Adesso ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità ma tornate a seguirci. Le cose migliori sanno dove crescere perché amano la buona terra. Le cose migliori le creiamo a poco a poco in armonia con la natura. Per Pasta Etna scegliamo il miglior grano di Sicilia, l'unico da filiera certificata di NW. Pasta Etna, solo da grano 100% siciliano. Serramenti in alluminio, verande, facciate frangisole e tanto altro ancora. Da 35 anni mettiamo la nostra competenza al servizio del cliente, sempre pronti a soddisfarne i desideri con la massima cura e professionalità. Infissi metallici di Miceli Orazio, la sicurezza e la bellezza al servizio della gente. Viale Aldomoro 36, Nicolosi, Catania. Telefono 095 791 4535. I knew you had the secrets in your eyes. So get on this ride, you can say what you like, but we won't get this chance again. You like a breath of fresh air, so deep under there, and I've waited for so long. Let's take this time. Nuovo Peugeot Rifter. Ogni giorno è un'avventura. Peugeot. Una storia secolare alle pendici dell'Etna. La distilleria fichera dal 1871 è leader nel settore dei liquori e dei distillati, esportandoli in tutto il mondo. Crema di liquori, rosoli, amari, grappe e distillati. Prodotto di punta e il fuoco dell'Etna, più forte e più buono che mai. Distilleria Fichera, via stabilimenti 237 Santa Venerina, Catania. www.distilleriefichera.it L'azienda Rocchetta Gomme alle pendici dell'Etna è il punto di riferimento del settore. Vasta gamma di pneumatici dei migliori marchi per auto, moto, SUV, 4x4, movimento terra, autocarro, quad e kart. Specializzato in convergenza, sostituzione rapida di freni, equilibratura, installazione e ammortizzatori, offre un vasto assortimento di cerchi in lega, revisioni per auto, fuoristrada, moto, quad. Rocchetta Gomme, strada provinciale Nicolò Siragalna, telefono 095 910313 www.rochettagomme.it Alle pendici dell'Etna sorge Mareneve Resort, relax ed accoglienza in una cattivante combinazione tra originalità del design contemporaneo e la semplicità dei materiali tipici della zona. All'interno una vasta offerta di programmi benessere per tutte le esigenze, percorsi sensoriali, sauna, idromassaggio, bagno turco e massaggi. Disponibili anche due sale e ristoranti da 150 e 50 posti ciascuna, ideale per banchetti, cerimonie ed eventi. Mareneve Resort organizza escursioni, attività invernali, noleggio mezzi e pick up, scuola di cucina. Da buone materie prime a delizie per il palato. Le conserve solo sole nascono da un'azienda che fa della natura e della storia della terra il punto cardine della propria attività. Antipasti, contorni, condimenti per primi piatti, ragù vegano e sugo albarolo, caponata, peperonata, patè di olive, patè di carciofi e mandorle, patè di capperi e altre ricette che attingono alla tradizione della famiglia. Solo sole, la Sicilia in barattolo. Seconda parte dedicata allo sport. Il Palermo prepara la sfida di Verona di venerdì prossimo. Intanto il portiere Brignoni avverte Irosa dai pericoli di una trasferta insidiosa e fissa la quota punti per la promozione diretta in Serie A. Roberto Chifari. Obiettivo 75 punti e la sticella posta in avanti dal portiere Alberto Brignoli che fissa la quota promozione per andare in Serie A a 75 punti. Il mio numero è 75. 75 punti penso che possano bastare per vincere il campionato, quanto meno per essere tra le prime due che poi accedono alla Serie A. Quindi sì, 75. A Verona il Palermo troverà una squadra in crisi di risultati che vuole riprovare a ripartire con Grosso in panchina. Se ci dovessero essere più tifosi nostri sarà sicuramente un surplus, un modo per aiutarci e questo è in dubbio. Brignoli però avverte il Palermo al Bentegodi la mancanza di tifoseria a Veneto, ormai ostile alla società, potrebbe aiutare proprio il Verona a giocare con maggiore leggerezza. La cosa che mi può spaventare è che probabilmente i giocatori del Verona non avendo pubblico e se così sarà non lo so, giocheranno sicuramente più tranquilli perché se c'è pubblico iniziano a sbagliare 3-4 passaggi e per noi diventa più facile perché automaticamente loro giocano contro di noi e contro il pubblico che li fischia, quindi sicuramente è un mezzo in più per noi. Ma Verona-Palermo non è solo una semplice partita di campionato, è il primo dei grandi match del campionato DB, tanto che la Rai ha deciso di trasmetterle in chiaro. Sarà una partita da giocare ad armi pari e con grande intelligenza e poi non deciderà nulla sicuramente, però ha un peso specifico essendo uno scontro diretto più importante rispetto ad altre partite. Il nostro giornale si conclude così, grazie per averci seguito fino ad ora. Grazie a tutti.